Questo è un bellissimo ruolo con la comparanza che può diciamo di stimoli e di generazione dei problemi, ma probabilmente un capito così puntuale e duro di considerarlo viva per esempio se fossimo i 16 settembre del 2012, oggettivamente noi andiamo a portare una delibera che si indica la condizione di postato nazionale dei programmi e del riferimento dei guidi di rilancio. I guidi di rilancio, quindi le questioni tecniche, mi sembra che siano assolutamente inattitudini rispondabili e che vi sia un problema dentro, il problema di livello comunale, non c'è qualche stabilità, ma non dipende da noi. La questione è la riferimento del porto dei programmi, diciamo che qua non c'è un programma, il programma è stato fatto su un rilancio che è quello che è come sta in un obiettivo e quindi ha fatto ordinare l'amministrazione. La giunta si è insediata in 15 giugno e in 20 giugno di giugno, condimento del mese d'agosto, i problemi che sono stati affrontati, ma ovviamente soluzioni non possono essere più di ceneri, a meno che il sindaco ha apporto di nessuno di perugno che ha nominato la riposta in giunta, che come diceva, è un mago di Cassanano in situazione come quella di Sirena di Cassano. Sicuramente il Consiglio Comunale ci ha avuto tutti i consiglieri estetti in presenza a Forcella e adesso faccio un'idea più volte. La consigliera Casiratti con la mozione che ha presentato e con la discussa alla fine del Consiglio ha avvicinato una domanda che se viene seguita e viene adottata un organismo di lavoro sicuramente sarà utile per il coinvolgimento di tutto il Consiglio sulle questioni più importanti che sono aperte. Dopo parleremo della parla di presto e abbiamo una questione aperta. Il Consiglio Comunale è un consiglio di maggioranza e di minoranza, non sapevo che i problemi sono enormi, ma in due mesi e mezzo, in due mesi e mezzo, in due mesi e mezzo, è complicato risolvere qualcosa e soprattutto che l'accusa e vengono chi ha condiviso anche il Consiglio del Stato in questo caso, che comunque era tecnicamente in minoranza, la scorsa di legislatura, va adottato così duro a questa amministrazione che congettivamente ha avuto molto tempo, e poi va ad un struttore dei problemi di fatto. Quindi io do un voto tecnicio, cioè non dico il mio rendimento del programma che a questo punto più che fare una delibera di allegare il programma che si trova a questo sito del Comune, come tale qua, cioè le elezioni diciamo che questa rivoluzione hanno trovato i cittadini nelle elezioni, aspettiamo, vediamo se la Giunta sarà risolto i problemi, è un istituto voto, il mio voto è favorevole, il mio voto è favorevole, è fatto un voto, anche tutto, visto la situazione economica che spende anche da le scelte, a livello nazionale che è il governo, la situazione non è assolutamente rossa. Presidente, consigliere Zanagoni, do la parola al consigliere Ferrando, ricordando che per la dichiarazione di voto i consigliere hanno a disposizione due minuti. Io partirei comunque da quello che ha detto il consigliere Gesserti, non mi sento di entrare in polemica, insomma, il fatto che l'opposizione ci richiami a dare un maggior segnale politico alla nostra azione, una cosa condivisibile, da ascoltare, forse certi toni erano un po' troppo polemico, perché appunto mi accangio con l'elettor Zanagoni, il tempo è stato poco e io che comunque spesso mi sono trovato a fianco agli assessori in questi primi mesi di giunta, posso garantire che si sta lavorando tantissimo. Vorrei sottolineare comunque quelli che sono degli aspetti nuovi di stacco netto rispetto a quello che sta dall'amministrazione precedente. A Cassano c'è un dialogo con la cittadinanza veramente forte in questo periodo, sia per quanto riguarda la valutazione delle frazioni, e io ci tendo a volerlo a questa cosa, sia per quanto riguarda i giovani, il dialogo che c'è con i giovani a Cassano in questo momento è un dialogo bellissimo e è un segnale politico fortissimo che questa amministrazione sta dando. sempre appunto per quanto riguarda i giovani, io penso a quello che è ad esempio già un gesto importante, quello che è perduto in biblioteca, il sindaco ha la propria disponibilità di un'idea mentre vado a provvedere il salone per lo studio, quindi insomma le cose che si stanno facendo va ascoltato il suo richiamo, non vuole entrare assolutamente in polemica, può entrare invece in polemica sul fatto del consiglio comunale parlante, questo è un consiglio comunale parlante che non prenderà mai posizioni ideologicamente compromesse che sarà subito rispetto alla giunta, è un consiglio comunale parlante che continuerà ad esserlo. Per quanto riguarda il documento, mi raccomando quando ha detto Zanapone, è un documento tecnico, come gruppo ci rassicurano la dichiarazione del dottor Dolce, in conseguenza del nostro parere è un prego.